2 novembre 1906 nasce a milano lucchino visconti il conte rosso del cinema italiano quando si arriva a questo momento ci si trova un po come il condannato a morte e si ha una sola cosa da dire fate presto e mirate al cuore trasferitosi a roma nel 1939 comincia a frequentare gli artisti che si raccolgono intorno alla rivista cinema sulla quale pubblica il suo primo articolo intitolato cadaveri fra il 1942 e il 1943 gira ossessione uno dei primi esempi del nascente neorealismo partecipa attivamente alla resistenza nel corso della quale sarà arrestato e torturato dopo la guerra dirige la terra trema bellissima senso nel 1963 gira il gatto pardo tratto dal romanzo di tomasi di lampedusa il film vince la palma d'oro a canna all'unanimità un film realizzato par monsieur lucchino visconti le guepard un ictus lo colpisce durante la lavorazione di ludwig ultimo dei tre film che compongono la cosiddetta trilogia germanica gruppo di famiglia in un interno del 1974 e l'innocente del 1976 saranno i suoi ultimi lavori muore a roma il 17 marzo 1976